Ho 48 anni, il mio seno sta inesorabilmente cambiando. Quali sono le cause di un seno cadente? Lorenza, purtroppo la nostra pelle, i tessuti molli e le caratteristiche di come è fatta la mammella di ghiando e tessuto adiposo cambiano nel tempo. In alcuni cambiano più velocemente, in altri meno, in alcuni non cambiano assolutamente. Paradossalmente vedendo parecchie donne, ho visto delle donne che hanno avuto tanti figli, hanno delle mammelle quasi perfette, ho visto donne che non hanno avuto figli, hanno delle mammelle che necessitano comunque di essere rimesse a posto tra virgolette. Per cui purtroppo il suo seno cadente è dato da una sua cute che tende a rilassarsi sotto un peso magari anche non eccessivo delle sue mammelle. Purtroppo non c'è molto da fare, è proprio la caratteristica della sua cute e del suo soppocutaneo. Massaggi, creme non ci credo molto però si possono usare, alcuni usano tamponare la mammella con del freddo però se è cadente in maniera che lei stessa non accetta più l'unica la coirurgia e si chiama masto test, cioè risollevarlo e purtroppo sono necessarie delle cicatrici. Per cui non si abbatta, non si faccia dei cruci particolari, purtroppo la sua pelle ha causato questo. A presto!